Sento le voci, mi buttano giù la casa, la mia amica mi chiama, buttano giù il palazzo, non so nient'altro, io non do le colpe a nessuno perché non sono nessuno per dare le colpe a nessuno, però abbiamo veramente le palle piene di tutte queste cose, io non so se è un oro romano, comunque l'unica cosa che io posso dire è che hanno detto in televisione qualcuno, hanno detto che non c'erano manutenzione, che non c'era mai nessuno, io le posso garantire che tutte le sere, tutte le sere c'erano gli operai, perché con le mie figlie facevano anche le stupidine con i muratori che erano lì, che facevano con le luci, cosa mi vengono a dire, diciamo le cose come sono, c'erano tutte le sere manutenzione, cosa hanno fatto? Lei da quanti anni abita qui in Via Polo? Da quando mi sono separata, sono venuta qua 4 anni fa, dopo 54 anni.